Vi ricordate quando mesi e mesi fa aprì un canale di gameplay molto molto insensato e mal organizzato insieme alla mia ragazza? Venne subito abbandonato. Sarà perché i gameplay mi vengono a noia subito, data l'attuale moda che portava chiunque a fare gameplay. Mancava solo Clio Makeup all'appello. Tutti si stavano dando ai gameplay e mi sarei stato sulle palle da solo. Lo dico chiaramente, mi avrebbe dato molta noia perché mi dava noia il fatto che tutti avessero un canale di gameplay. Perciò mi sarei dato noia da solo, capite? E lo abbandonai. Provai a rifarne un altro ed era noiosissimo, era un gameplay su San Andreas. E lì basta, se i miei video devono annoiare a tal punto da non piacere neanche a me, fermo qui e porto avanti solo il canale principale. Perciò quel canale andò solo alla mia ragazza, l'ho usata per guardare i video, mettere mi piace, commentare, condividere eccetera eccetera. Ho aperto un altro canale di gameplay. Aspettate. Stavolta è solo mio. Prenki Retro Gameplay. L'ho trovato in descrizione, in home del canale e tra i canali consigliati. Stavolta i video saranno a cadenza regolare, avranno uno stile proprio e saranno solamente Retro. Ora mi sono un po' specializzato nell'emulazione, ho le ROM set completi di molte console tra cui NES, Super Nintendo, Sega McArrive e Master System. E siccome questi emulatori, alcuni di essi, più di 480 non possono andare, proprio per le limitazioni della console, ho anche una grafica per il video, per il gameplay. Un quadrato con la facecam e un quadrato con... vabbè è un... a parole non rende ma comunque l'idea è quella. Perciò il canale apre martedì prossimo ed ogni due giorni verrà pubblicato un gameplay lungo, lo dico, è parecchio lungo perché i giochi che gioco io, primo non permettono di salvare così spesso e secondo vanno goduti. E poi non vorrei far durare una serie mille e mila anni. Non lo so, Crash Bandicoot, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, tutto, tutto. Un single player e multiplayer, tutto. Sto facendo la sigla, qui dietro c'è Sony Vegas in lavorazione, in rendering. E niente, iscrivetevi a questo canale, giuro che questo lo terrò attivo più che altro per divertimento. Quell'altro l'avevo fatto un po' per sperimentare, non mi è piaciuto. Ma non mi è piaciuto, ho già spiegato perché, non mi è piaciuto perché... Era troppo... Troppo mediocre. Adesso ho sviluppato un mio stile e grazie a questo potrei rendere il gameplay un po' più. Capito, no? Vabbè, noi ci vediamo lunedì con il prossimo episodio di Franky Retro, prossimo scoppiettante episodio. E ci vediamo martedì prossimo ogni due giorni sul canale di gameplay. Senza contare che tra quei due giorni ci potrebbe essere un'uppata serale. Perciò, niente, staremo a vedere come andrà a finire, ok? Ditemi cosa ne pensate, darmi qualche consiglio e giuro, giuro, giuro che questo sarà nel mio interesse tenerlo pubblicato. E niente, ci vediamo a un prossimo video. Arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti.